Cari amici di Spazio 50, buongiorno di nuovo con voi a collegarci a questo vissuto di questo quotidiano che scorre, sebbene le notizie di questa ultima settimana siano per certi versi notizie confortanti, perché si parla di riapertura, si parla di date più certe per la ripresa di certe attività e è l'attesa di tutti, ma certo è anche vero che per gli under 18 e gli over 70 è verosimile che le misure di protezione, di contenimento, quindi di lockdown debbano in qualche modo continuare, perché ancora le cose riguardanti i comportamenti del virus e la possibilità di gestirlo e trattarlo dal punto di vista medico non sono ancora sufficientemente sviluppate e sicure, anche se vanno sicuramente molto meglio. Oggi voglio raccontarvi una storia che ha più significati. Il primo significato è quello che gli anziani, anche molto grandi, sentiremo tra poco, hanno una grandissima capacità di recupero a patto che siano ascoltati e le loro comunicazioni siano sufficientemente oggetto di attenzione e di ascolto per la corretta interpretazione. L'altro aspetto è quello che la storia che racconto riguarda questi accadimenti di Sago nei primi anni 90, quando non era così forte il peso della economicità, del rigore economico, del controllo della valutazione economica, della spesa sanitaria, che come sappiamo essere stata negli ultimi decenni, parliamo almeno di un paio di decenni, una delle cause di una modifica sulla gestione della rete assistenziale. Ma noi non ci occuperemo oggi di questo. Andiamo al racconto. La nostra Giuseppina, nome di comodo, anni 102, ricoverata addeggente, ospite, presso una casa di riposo. Un pomeriggio, durante la guardia in ospedale, lavoravo all'epoca in un grande ospedale romano, vengo raggiunto dalla telefonata di un medico di medicina generale, chiamato a vedere, a visitare la paziente, la nostra Giuseppina, la quale da circa 20 giorni aveva cominciato a cambiare il suo regolare, la sua regolare condizione. Si mostrava confusa, disorientata, sonnolenta, incerta nel cammino con tendenza allo sbandamento degli episodi di nausea e una sonnolenza, come dicevo, prolungata al punto che il personale che sorvegliava la paziente si creò forte la domanda se non ci fosse qualche problematica importante. Il collega inviò la paziente, l'abbiamo accolta. Preto l'autorizzazione del mio capo dell'epoca, effettuammo un'attacca cerebrale, torno a dire primi anni 90. L'esecuzione di un'attacca cerebrale in un ospedale in urgenza è sempre un qualche cosa che mette in moto, impegna risorse, tempi, operatori che debbano cessare certe attività per dedicarsi ad altre. Insomma, tutta una serie di problematiche che all'epoca, senza alcun indugio, si decise di fare questa attacca cerebrale. Questa attacca mostrò la causa di quei malesseri. Si trattava di un ematoma sottodurale cronico. Appena un cenno per farvi capire che il termine cronico significa che l'evento che lo aveva causato risaliva, si è poi ricostruito a circa tre mesi prima, un piccolo banale, banalissimo trauma cronico, passato inosservato, che però nel cervello di un anziano così avanti con l'età, quindi un cervello ipotrofico, cioè con una massa encefalica importante, riduzione di questa massa encefalica, la quale riduzione di massa encefalica ha determinato la possibilità per il sangue venoso che scaturiva a seguito della rottura di vene causate dal traumatismo, una raccolta di questo sangue in tempi estremamente lunghi. Solo quando la raccolta si è fatta cospicua e ha compresso il cervello, sono iniziati i sintomi di cui abbiamo parlato. La nostra Giuseppina fu portata in sala operatoria, operata, il giorno dopo stava molto bene e dopo una settimana, tra gli applausi di tutto il reparto, se n'è tornata nella sua residenza. Perché questo racconto? E poi tanti tanti altri ce ne sono di storie che potrebbe valere la pena comunicarsi, a confermare fondamentalmente due aspetti. Il primo è che i grandi anziani, come detto, hanno delle grandissime capacità di recupero anche a fronte di patologie importanti e che quindi vale la pena giocarle queste carte. Ora, certe modalità che abbiamo visto e che ci hanno fatto crescere l'angoscia, la paura, i racconti dei telegiornali, i contaminati, i positivi, i morti, i deceduti che crescono con numeri impressionanti, probabilmente si sono allentate le attenzioni nei confronti di una certa fascia di popolazione. Quindi il grande valore del rispetto e del sostegno e del mantenimento della attenzione nei confronti degli anziani. L'altro aspetto è che probabilmente oggi in una casa di riposo una persona di 102 anni che ha una manifestazione clinica di quel tipo si potrebbe correre il rischio di considerarla come una naturale evoluzione dell'invecchiamento e quindi non fare nulla. Bene, il virus. Il virus che cosa ha fatto? Ha acceso i riflettori su questo mondo, sull'organizzazione di questo mondo sanitario procurandoci uno shock, facendoci vedere delle cose che avevamo fino a ieri, forse ipotizzato, ma più facilmente ignorato per motivi differenti. Io non sono qui a fare analisi particolari, dico solo che forse oggi è arrivato forte e prepotente il momento di ripensare esattamente una serie di modalità organizzative. E il racconto oggi di coloro che sono usciti dal dramma della ventilazione assistita, dall'isolamento, dalla relazione umana filtrata dagli scafandri degli operatori meravigliosi, portano a dire ancora una volta, ad affermare delle cose, delle parole che hanno un po' guidato le generazioni precedenti. Lo vedete e lo avete visto e lo vediamo anche relativamente alla disponibilità che tantissimi colleghi anche in pensione si sono messi in gioco nuovamente anche in età avanzata per dare disponibilità al supporto. Perché questo? Perché l'attenzione, l'ascolto, il valore, dobbiamo andare a recuperare di questi aspetti. Nei racconti che sentiamo in televisione, tutte le persone che escono fuori raccontano che la cosa che a loro è mancata più di tutte, e lo confermano gli specialisti e tutto il personale di assistenza, è il contatto diretto fisico della relazione con il paziente. Il paziente anziano per definizione è un paziente più fragile degli altri e più di altri ha bisogno esattamente di questo. Non ci stancheremo quindi, e ce lo ripetiamo spesso con i colleghi, di sostenere il principio del valore grande della carezza, dello sguardo negli occhi. Nel tenere in mano la mano di un paziente mentre ci vuole sussurrare qualche cosa, perché dobbiamo abituare anche le nostre orecchie a saper intercettare il contenuto e il valore di una comunicazione sussurrata e non necessariamente urlata. Siamo abituati al fragore delle parole in quasi tutti i contesti. La difesa dell'anziano deve cominciare attraverso l'utilizzo intelligente di questi strumenti. Quelli che hanno caratterizzato da sempre e in tempi appena appena più lontani hanno caratterizzato il mondo della gestione della sanità. L'economia importantissima. Ma non dobbiamo cadere nel drammatico errore di considerare un paziente un orologio rotto che forse può valere la pena o meno di riparare. Con un pensiero di fiducia e di apertura verso l'uscita di casa che sicuramente arriverà perché il progresso della ricerca applicata, della scienza, delle molecole, dei farmaci e del vaccino è qualche cosa che sta viaggiando con la velocità della luce e a brevissimo avremo dei grandissimi supporti da questo punto di vista che ci faranno recuperare sicuramente anche la tranquillità e potranno consentirci di abbracciarci e di toccarci di nuovo. Vi ringrazio per l'attenzione e con l'augurio di potervi sentire e rivedere per continuare il nostro racconto. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.